Allora, l'area è definita, vediamo qua. Andiamo in cerca di questo signorino che ha fatto un tutorial, che è molto interessante. Cari miei, se anche voi siete malati di Facebook, questo è proprio il video che fa per voi. Eh già, perché nonostante negli ultimi anni il social network si è cambiato tantissimo, introducendo tante novità e tante nuove funzionalità, in effetti però, diciamo così, l'esperienza autentrana è che sia veramente fantastica, soprattutto per quanto riguarda il web. Da tempo si sa che il Google Max si è focalizzato sui dispositivi mobili e tutte le realtà più interessanti riguardano, per la maggior parte dei casi esclusivamente, quella tipologia di utilizzo del web e il testo da anni ormai, sempre allo stesso, sempre lo stesso, nonostante da tempo, per esempio, l'introduzione della nuova interfaccia grafica che in Italia alla fine non è arrivata mai. Vi abbiamo fatto vedere come attivare la nuova interfaccia grafica in Italia, e abbiamo fatto vedere tanto di Facebook per Facebook, ma oggi voglio fare ancora di più, voglio mostrarvi come... Eccolo qua. Questo è interessante, Facebook for Chrome, che è questo qua, ecco loco. Iniziamo subito la carrellata con Facebook for Chrome, un componente aggiuntivo per Google Chrome che permetterà di accedere al social network... Dopo vi inserire dove si va per scatola. ...la pagina principale. Come funziona? Semplicemente, una volta installato il plugin, verrà aggiunta un'icona accanto alla barra degli indirizzi... ...eccola qua, che sarebbe questa... ...eccola qua, che sarebbe questa... ...eccola qua... ...eccola qua... ...questa che l'assegnavo... ...si potrà addirittura pubblicare con lo stato allegando anche un'immagine e così via. Insomma, si potranno fare tutte le operazioni... Questa è quella che... ...questa funziona nel mio computer, in questo momento che sto registrando... ...tramite un componente aggiuntivo che funziona... ...è quello che sta specializzando un altro sito. Continuiamo con Facebook Messenger, un plugin che è proprio a come la... Provi, quello che vuoi. ...metterà di utilizzare la chat di Facebook, anche se non si sta visualizzando la pagina... ...chiudiamo qua, adesso vi insegna, dove sarà pescarlo? ...scrivi Facebook for Chrome... ...eccolo, è già pronto... ...si clicca sopra... ...viene fuori l'installazione... ...allora, a questo punto, io l'ho già aggiunto a Chrome... ...e mi dà aggiunto a Chrome... ...in caso contrario, è messo aggiungi a Chrome... ...aggiungi a Chrome, eccolo qua... ...e si installa qua... ...che poi a vostra volta... ...cliccate sopra e avete tutte le nuvita sotto mano... ...in temporale... ...io direi di chiudere... ...direi via... ...e vi faccio vedere anche l'estensione... ...e vi faccio vedere anche l'estensione... ...come si fa a catturare tutte le fotografie di qualsiasi profilo... ...vediamo qualsiasi persona... ...vediamo a caso qua... ...Gino Puma... ...no, no, facciamo stare... ...qualsiasi persona... ...no va bene... ...ho svolggetto qua... ...si lascio sul profilo... ...questa è l'estensione... ...eccola qua... ...clicata sopra... ...in automatico... ...tutte le fotografie che ha postato lui... ...son qua... ...qualsiasi profilo... ...mettiamo un profilo... ...mettiamo... ...che... ...bobobobobo... ...servizio pubblico... ...sara... ...serodova... ...totissimo qua che non so... ...sergio... ...fereto... ...de dove abita... ...dove sia... ...allora... ...questo qua non è mio amico... ...vi sto a dimostrare che... ...questo... ...pur non essendo mio amico... ...che viene a fare? ...mettiamo tutte le sue fotografie... ...naturalmente... ...non sa lavorare al computer... ...non ha mai postato una fotografia... ...e di conseguenza... ...non si trova... ...vedete in questa? ...eccola qua... ...ritorniamo... ...a ricliccare... ...ecco qua... ...questa signorina qua... ...questa signorina qua... ...non è mia amica... ...però... ...io trovo tutte le sue fotografie... ...soddisfatti e contenti... ...signore... ...imparate da Gino... ...è il meglio del condominio... ...chiudo... ...e faccio vedere il programma... ...che sto operando... ...è questo... ...ho tutto... ...graccia... ...chiudo... ...o metto in pausa... ...o vado avanti... ...sono già 5 minuti e 42 secondi...